Conto alla rovescia partito per l'apertura dei seggi elettorali. Le sezioni apriranno alle ore 8 di domani per chiudere alle ore 22. Il lunedì si potrà invece votare dalle 7 alle 15. La scheda per l'elezione del sindaco del Consiglio Comunale è di colore grigio. Ogni scheda elettorale reca i nomi e i cognomi dei candidati alla carica di sindaco al cui fianco sono riportati i contrassegni delle liste ai quali il candidato è collegato. Si può votare un candidato alla carica di sindaco e una lista a lui collegata tracciando un segno sul rettangolo contenente il nome e cognome prestampato del candidato sindaco e un segno sul contrassegno di una lista a esso collegata. Si può votare un candidato alla carica di sindaco e una lista collegata a diverso candidato sindaco tracciando un segno sul rettangolo del candidato sindaco prescelto e uno sul contrassegno della lista prescelta anche se collegata a diverso candidato sindaco. Il solo segno sul contrassegno della lista, a differenza del passato, non estende il voto al candidato sindaco collegato, al quale pertanto bisogna attribuire un voto espresso. L'elettore non deve riscrivere il nome e cognome del candidato sindaco appena all'annullamento della scheda. Si può esprimere un solo voto di preferenza per il Consiglio scrivendo nell'apposita riga, tracciata a fianco del contrassegno della lista prescelta, il cognome del candidato consigliere. In caso di due candidati con lo stesso cognome occorre aggiungere anche il nome. Nei comuni fino a 15.000 abitanti le elezioni si svolgono a turno unico. Eletto sindaco il candidato che ottiene il maggior numero di voti, negli altri comuni invece sarà eletto sindaco che avrà riportato almeno la metà più uno dei voti. In caso contrario gli elettori saranno chiamati al ballottaggio il 20 e 21 maggio prossimi per scegliere tra i due candidati più votati al primo turno e sarà eletto colui che avrà ottenuto il maggior numero di voti. Per le circoscrizioni si vota con una scheda rosa e per la prima volta il Presidente è eletto direttamente dai cittadini. Per votare è necessario presentarsi al seggio con un documento di identità e la tessera elettorale. Chi non avesse la tessera può richiederla all'ufficio elettorale del Comune di Residenza.